Siamo arrivati alla fattura, c'è che ho un compagno e c'è che mi ha fatto mai volta di qua. Da, 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 c'è il risultato e allora vedi io ancora. Però vedi. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da Grazie per la visione S-e scorcul acolo, nu? g-ampa, dar, nu aproapeunța mai închide o urmă sau de fapt sărăcie, e totul în următate cu urmă la Fanfa cum e că se întrande de a Podrester C'è un po' di spagna, da Grazie a tutti 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 Grazie a tutti